Molti sono gli studi oggi sulla memoria della resistenza e della lotta partigiana e molti anche gli studi sulla festa nazionale del 25 aprile e cosa significa. Tutti concordano nel raccontarci come quella memoria e anche quella giornata sia stata almeno fino ai primi anni 90 occasione di celebrazione per tutte le forze dell'antifascismo e al tempo stesso anche momento di contrasti tra le sue diverse componenti. Si pensi ad esempio agli anni 50 e allo scontro proprio su questo terreno del ricordo tra le forze del fronte socialcomunista all'opposizione e le forze moderate al governo. Oppure si pensi agli anni 60-70 nel lungo 68 nella stagione dei movimenti tra i partiti dell'arco costituzionale e i gruppi della sinistra rivoluzionaria. Tuttavia questi contrasti facevano parte, riconoscevano un terreno comune nei valori dell'antifascismo tanto che l'accusa reciproca era proprio quella di averli traditi. Rimanevano isolati i gruppi neofascisti, partiti neofascisti ed esclusi almeno formalmente dal contesto della memoria collettiva. Da alcuni decenni in quella che è la chiamata la Seconda Repubblica molto è cambiato. Il 25 di aprile è oggetto di una ben più radicale contesa politica, lo vediamo ancora oggi, dove da un lato le componenti che vorrebbero ridimensionare o annichilire quella festa nazionale invocano una nazione pacificata, quindi che superi in avanti la memoria partigiana a favore di una memoria che coinvolga tutti. Dall'altro invece quelle che difendono questo rito celebrativo il 25 aprile, la memoria partigiana nel nome di una nazione democratica. Le prime si possono senz'altro definire afasciste o anti-antifasciste, almeno così ci dicono alcuni storici, quando non apertamente neofasciste. Le seconde al contrario si richiamano per convinzione o talvolta per convenienza alle tradizioni dell'antifascismo. Quello che risulta importante da sottolineare è che in questo duello tutto politico ideologico, sembra che ogni altro antifascismo sia escluso, soprattutto quell'antifascismo antagonista, l'antifascismo critico verso la società esistente. Ecco, viene completamente oscurato, sembra che si debba schierare da una parte o dall'altra o sostenendo la nazione pacificata, appunto nel nome dell'afascismo, o una nazione ritualizzata dove l'antifascismo diventa la semplice celebrazione dei valori democratici esistenti. Tutto questo per dire cosa? Per dire che oggi le componenti dell'antifascismo in realtà non sono così univoche, non sono così unitarie e sono al contrario profondamente diverse per modalità, culture e obiettivi. Io penso che non si possa immaginare un 25 aprile, un antifascismo che si limiti solo alla tutela dei diritti esistenti, solo alla tutela dei diritti civili escludendo quelli sociali, solo dei diritti per alcuni escludendo una fetta, una fetta che spesso diventa anche una gran fetta della popolazione, solo quando possibile e non come condizione costante di convivenza civile. Io penso a un antifascismo invece che sia ancora capace di immaginare un mondo dove si intreccino la difesa dei valori civili e dei diritti civili e sociali insieme a una tensione verso l'eguaglianza sociale.